è bello a tutti ragazzi qui parla di pascal tc hot e benvenuti finalmente su e lo leggo ragazzi finalmente ci siamo allora avviare uno sì ok allora ragazzi faremo l'atto allora speriamo di farci almeno se si sbriga magari questo gioco a tu ok cos'è una palla mi sa che c'è il fiatone sto bambino comunque lasciamo stare ok ma che fa il calcio contro la spiaggia ok ok ci muoviamo il mio pallone prendiamo il mio pallone pazza che veloce e noi siamo lentissimi facevo schifo vieni qua ok si è fermato però guarda ok c'è proprio qui davanti tutti di non fermare per puro caso cosa è scarso cos'è che faccia dal culo che hai ok madonna bellissimo perché due bambini al giorno in un istrangola c'è mi sembra ovvio che cosa sta facendo no lo hai richiuso sei cattivo vicino sei cattivo non mi ha visto no mi ha preso ci sta in chiudendo qua dentro e ha posato la chiave tavolo oh mio dio ragazzi ha posato la chiave sul tavolo perché c'è un buco nel tetto non ho capito allora ci siamo allora innanzitutto ragazzi vi faccio vedere come si fa allora vi farò vedere come si fa perché è troppo scura e il video verrebbe tutto tutto nero quindi no ragazzi e basta risolgo ok 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 allora no però vicino però no eh batte ok ragazzi dobbiamo metterci qua sopra salire ho detto salire ho detto salire adesso devo essere più veloce perché è arrivato mio fratello e sicuramente mi prenderà su tablet perché il mio telefono non è compatibile quanto già io che non provo ok veloci veloci ragazzi ragazzi non so se riuscirò a pubblicarlo no li dobbiamo andare qua sopra ok e poi andare qua adesso vediamo vediamo la finestra e vediamo la finestra e la finestra qui dentro togliamo questo quadro e lo mettiamo qui e lo mettiamo qui e lo mettiamo qua dentro poi lo mettiamo questa chiave rossa ok prendila questo prendi ok e vediamo questa chiave gialla Lui dovrebbe essere il cortile Questa cosa chiede la banca Che non c'è veloce Ok allora Qui No 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 E però che cacchio Vincino Mi è rotto le scatole Aspetta ma le scatole non si rompono Prendilo prendilo Sto bambino qua Ok Prendilo bravo perché prima non l'hai preso Madonna Questo è pigro ragazzi È pigro per questo non l'ha preso Allora Attiviamo Boom È sbagliato Quanta gioia che non provo Ok Questo è giusto Quindi ora ragazzi Prendiamo Aspetta mi dai apri 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 Sì ragazzi si è svegliato Sì ragazzi si è svegliato Scappo 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 ragazzi Corri 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 Ragazzi abbiamo un disco Dobbiamo aprire qui Ragazzi vai Vai Corriamo su Sbrigati tizio Corrile qua Tutti non c'è da dentro Ragazzi sta arrivando Non so se Mi rendete conto No idiota Guarda che scello Sto Sta arrivando ragazzi Sta arrivando Veloce Sì si è puntato Aspetta ma lui è solo Ok Veloce Veloce Dai ragazzi Dai 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 Sì Ce l'ho fatto ragazzi È proprio qui Vabbè ci vediamo in un nuovissimo video Ciao a tutti ragazzi È stato bello Ci vediamo nell'atto 2